La formazione non finisce mai, questo il titolo del panel organizzato dall'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia durante il quale si è discusso dell'importanza della formazione continua per i giornalisti. Se restano ancora tanti interrogativi sulla capacità del giornalismo di essere credibile senza scendere a compromessi con il potere la risposta è la formazione prima di tutto, come ha ricordato Gerardo Greco di Rai3. Io sono convinto che tra un buon giornalista e un buon cardiochirurgo forse la differenza non sia tantissima cioè tutte e due devono essere formati, devono avere più che mai oggi una formazione, una capacità, una credibilità e questo secondo me nelle scuole è fondamentale. Non solo in Italia ma anche all'estero l'importanza e il ruolo delle scuole di giornalismo è al centro del dibattito. Ne abbiamo parlato con Anne Morrison, direttrice della BBC Academy. Le scuole di giornalismo giocano un ruolo fondamentale nella formazione dei giornalisti e da quanto ho potuto vedere nella mia breve visita a Perugia mi sembra che ci siano molti aspiranti giornalisti bravi, intelligenti e preparati.